E' stato pubblicato sul sito della Regione Campania il bando per la concessione di un contributo pubblico per un progetto di investimento per la realizzazione di infrastrutture per la banda larga nella Regione. Il termine per la presentazione delle offerte è alle ore 13 dell'11 dicembre 2013. Con questo intervento, a soli quattro mesi dalla stipula della Convenzione Operativa tra Regione Campania e Ministero dello Sviluppo Economico, si completano le azioni messe in campo per abbattere definitivamente il digital divide sul territorio regionale. Sono state infatti avviate tutte le procedure di gara pianificate per attuare il grande progetto Banda Ultralarga e gli interventi per il superamento del digital divide in Regione. La pubblicazione del bando per il secondo intervento di sviluppo della banda larga attraverso l'individuazione e il finanziamento di un progetto di investimento arriva a seguito dell'accordo di programma stipulato tra la Regione Campania ed il Ministero dello Sviluppo Economico ed è stato presentato da operatori di telecomunicazione, rivolgendosi alla diffusione dei servizi a banda larga nei territori in digital divide, con particolare riferimento alla rete di accesso. La procedura di selezione è gestita da Infratel Italia SPA, mediante una piattaforma telematica raggiungibile attraverso l'indirizzo www.gareinfratel.it. Il bando è finanziato con i fondi POR, FES, Campania 2007-2013 per un ammontare di 11,640 milioni di euro e rappresenta l'intervento di completamento dell'attuazione del piano nazionale per la banda larga.